costruisce e offre un prodotto di qualità e non c'è dubbio che il Consiglio con l'inizio vedrete ora già in italiano e in inglese ma avrà anche altre lingue e soprattutto nasce ovviamente senza onda di polemica dalla assunzione che il vecchio sito che aveva un titolo nel Lazio un incredibile salto positivo di opportunità di ospitalità, le 5 stelle del più 72 perciò da una campagna che come vedete è questa qui, il Lazio a portata di mano che semplicemente avverte e promuove sotto il sito questa grande ricchezza di luoghi, la campagna sarà online entro l'estate, sarà una campagna che troverà anche vita in alcune pubblicazioni di promozione turistica che faremo sui quotidiani e infine partirà per secondo piano una grande mossa sugli etruschi e quindi si inserisce in quest'idea di promozione territoriale sulla quale noi presenteremo questo sito ma la scelta del Paraspo non è casuale, in questi mesi abbiamo già voltato pagina con un'isola maniera di promozione Marghera che ti Sud sia un'isola, un'isola, un'isola e un'isola